Ma cerco di portare avanti sempre la tematica antirazzista, oltre a cantare l'amore che penso sia la colonna sonora della nostra vita. Due singoli lancio, iniziamo con Aspietta e noi continuiamo con Io Bianco e Io Nero. In questi due in particolare, in uno dei due in particolare, c'è la voce di una donna, Pietra Montecorvino. Una donna graffiante, una donna, una pantera direi più che altro. Sì, ho voluto che fosse lei, Barbara, io la chiamo Barbara, perché per cantare un brano molto sanguigno, quindi ho osato anche, abbiamo avuto anche il coraggio di uscire, partire con questo singolo che, sai, è sempre difficile il brano dialettico. Però questo è un disco che io non sto né a compromessi né di mercato, il fatto di essere più commerciale, quindi abbiamo avuto il coraggio di partire perché io penso che la canzone in dialett sia il patrimonio dell'UNESCO.